Buon giovedì da Beirut. Oggi devo partire con una rettifica, ieri parlando di Mutaz Adaisa, il giornalista palestinese che ha lasciato Gaza dopo averla raccontata per 108 giorni di assedio. Ecco, lui era stato definito influencer, ma non da Repubblica, come ho erroneamente detto, bensì dall'agenzia ANSA. Piccola precisazione, ma necessaria. Entriamo nel vivo, la città di Khayunis resta al centro dell'assedio israeliano a Gaza, nel centro-sud. Tra gli eventi più gravi, riporto che il fuoco dei carri armati israeliani ieri sera contro un edificio dell'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati Palestinesi, Umrua, a Khayunis, ha provocato almeno 12 morti e 75 feriti. Lo riporta Thomas White, il capo di Umrua a Gaza. E sono almeno 20 i palestinesi uccisi e 150 i feriti in un altro episodio, un bombardamento israeliano su un gruppo di persone che si trovava in coda per ricevere aiuti umanitari a Gaza City, nel nord. La notizia è arrivata dall'osservatorio Euromed Human Rights Monitor, che aveva già dinunciato altri due episodi simili nei mesi scorsi, senza destare nessun tipo di interesse. Ecco, è particolarmente rilevante anche perché il nord di Gaza oggi non è più il cuore dell'assedio, ma chi è rimasto in questa zona è tagliato fuori dagli aiuti umanitari e i pochissimi che arrivano non possono evidentemente essere distribuiti in sicurezza, segnando quindi un disastro all'interno di un disastro molto più ampio. Diciamo pure che colpire persone che attendono aiuti umanitari è un fatto così grave che persino l'esercito israeliano, che non si è mostrato particolarmente attento a queste denunce nei mesi scorsi, ha dovuto annunciare l'avvio di un'indagine. Ma dicevamo di Khan Yunis, quindi torniamo verso sud. L'esercito israeliano ha circondato la città da due giorni e oggi ha invitato la popolazione a sfollare verso Rafah, al confine con l'Egitto. Ma i combattimenti da un lato rendono pericolosi i trasporti e quindi è molto difficile lasciare Khan Yunis. Oltretutto a Rafah si concentra la maggior parte del milione 700.000 persone palestinesi già sfollate a causa della guerra. Quindi la situazione umanitaria che già è disastrosa può soltanto peggiorare ulteriormente. E mentre vi parlo arriva la notizia che l'ospedale Al Nasser a Khan Yunis, circondato da giorni con pazienti e personale bloccati dentro e bloccati fuori, ha esaurito cibo anestetici e antidolorifici. Siamo insomma di fronte alla replica di quanto già successo a novembre all'ospedale Al-Shifa di Gaza City. Ed è doveroso ancora una volta chiederci che cosa Israele voglia ottenere da questo ormai sistematico trasformare gli ospedali in bersagli senza poi trovare prove di un effettivo utilizzo da parte di Hamas. Ma poi comunque stiamo parlando di strutture sanitarie, cioè strutture in teoria inviolabili anche in condizioni e in tempo di guerra. Ma parlando invece di territori che si trasformano, regole che cambiano, ecco, da un paio di giorni arrivano conferme che Israele sta lavorando per creare una zona a cuscinetto profonda circa un chilometro nella striscia di Gaza lungo tutto il confine con Israele, demolendo quindi tutti gli edifici e tutte le strutture civili e pubbliche che si trovano al suo interno. È un progetto di cui i politici e i funzionari israeliani parlavano in realtà da tempo, lo definivano necessario per la sicurezza di Israele, necessario per evitare nuovi attacchi. Ma sembrava un'idea, anche un'idea un po' campata in aria e basta. E invece no, invece si sta attivamente lavorando. La zona a cuscinetto restringerà ulteriormente il territorio della striscia, non quello di Israele. E pensiamo a cosa significhi per un territorio di 365 chilometri quadrati che nella sua parte più stretta è di appena 6 chilometri e in quella più ampia, beh, appena 12 chilometri. Sarà un'area disabitata, senza edifici, a ridosso della barriera di confine, così che possa essere sorvegliata militarmente e possa quindi, nelle intenzioni di Israele, appunto essere usata per impedire nuovi attacchi via terra. I palestinesi, anche i civili, non potranno entrare al suo interno, anche se è territorio di Gaza. L'area però ospita, prima di tutto, case, molte scuole, molte strutture pubbliche e anche territori agricoli. E non è un problema per Israele, evidentemente, visto che la decisione è quella di distruggere tutto quanto in questa fascia, compresi proprio i terreni agricoli. E questo è un cambiamento importante, perché la zona Cuscinetto in realtà esisteva già, ma era più piccola e ai palestinesi era concesso, termine terribile ma questo è, di coltivare i campi. Jeffrey Nice, ex procuratore delle Nazioni Unite per i crimini di guerra, afferma che Israele non ha nessun motivo legale per creare questa zona Cuscinetto e per questo ha proposto sanzioni internazionali contro Israele per quello che definisce un tipico esempio di land grabbing, accaparramento di terra. Anche gli Stati Uniti questa volta si sono detti profondamente contrari, anche perché, secondo il segretario di Stato Antony Blinken, è necessario mantenere l'integrità territoriale di Gaza. Ora, è raro che mi manchino le parole, ma di fronte a un piano del genere è davvero difficile avere qualcosa da dire, se non che andrebbe fortemente sanzionato. Le parole invece non mancano per il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che si è scagliato contro il Qatar e contro il suo ruolo di mediatore tra Israele e Hamas nella vicenda che riguarda la liberazione degli ostaggi. In una registrazione pubblicata dal canale israeliano Channel 12, Netanyahu si rivolge alle famiglie degli ostaggi che ha incontrato affermando che il ruolo del Qatar è problematico. Netanyahu più precisamente ha detto che il Qatar non è diverso nella sostanza dalle Nazioni Unite, non è diverso nella sostanza dalla Croce Rossa e per certi versi è ancora più problematico. Sì, ha usato veramente queste parole, è tutto vero. Insomma, come inimicarsi il mediatore, la principale organizzazione medica internazionale e il principale organismo internazionale in un colpo solo, tra l'altro con una dichiarazione che nella forma e nella sostanza è, beh, abbastanza incomprensibile. Tra l'altro domani attendiamo il pronunciamento dell'Accordo Internazionale di giustizia sulle misure provvisorie e urgenti per impedire il genocidio a Gaza. Ecco che anche la Corte potrebbe diventare un nuovo nemico di Israele o almeno di Netanyahu. Andiamo in Libano, poco da riferire, non si muove nulla a livello politico e diplomatico, almeno magari qualcosa si muove sotto traccia ma sicuramente non ci sono progressi rilevanti sul tema del confine. Sul terreno sono stati diversi anche oggi bombardamenti israeliani sul sud, in uno di questi è stata distrutta una casa a basurie vicino a Tiro e una donna è stata ferita. Per contro Hezbollah ha annunciato questa mattina di aver colpito due piattaforme dell'Iron Dome, il sistema di difesa antiaereo israeliano. E' la seconda volta in questi giorni, anzi in questi mesi, che l'Iron Dome viene colpito. La prima volta era stato il 18 di dicembre. Ma in generale giornate come questa confermano le dinamiche che abbiamo già visto. In generale Hezbollah continua a colpire principalmente obiettivi militari, mentre Israele bersaglia sempre di più zone civili, in particolare villaggi abitati. Ma, ripetiamo le parole di ieri di Hassan Fadlallah, parlamentare di Hezbollah, che cerca comunque di dire sta a Israele capire se vorrà o non vorrà entrare in guerra. Quindi non aspettiamoci dal lato libanese particolari cambi di linguaggio, particolari cambi di passo, a meno che non succeda qualcosa a sud del confine che smuova e che quindi potrebbe, per esempio, essere movimento di truppe di terra. Ma a oggi non ci sono particolari segnali, ma chiaramente è necessario tenere tutto sotto strettissimo controllo, sia come tempi, sia come modi. Ci risentiamo domani, sempre da Beirut, sempre con gli occhi aperti su Gaza, su Libano e su tutta la regione.